Qual è? Una scubi. No, guardate Miki. No, tutto qua è la scubi. E uno a te. Grazie. Oh, che bene. Te ne chiamo. Uno a te. Sì, ho preso la zia Lori e la zia Andrea. Grazie. Buona, no? Mi sto arrabbiando. No, mi sto arrabbiando. No, non ci sono. No, non ci sono ancora. Ci sono. C'è un po' di me. No, non ci sono. Non, non ci sono. Alla scubi. Alla scubi. Sì, è un po' di me. Alla scubi. Ok. e e e e e e e e Grazie a tutti